bellissima preghiera per i momenti difficili fermati e prega san pio da pietra il cida nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo ame caro padre pio ti voglio pregare per momenti difficili che sto attraversando a volte sembra che tutto mi croglie addosso e che niente vada per il verso giusto proprio in questi momenti la mia fede vacilla fa che io non perda mai la fiducia in dio mio sostegno e mio padre onnipotente caro padre pio aiutami a far sì che si compia sempre la volontà di dio anche quando le cose non vanno come vorrei fa che io possa ripetere ogni giorno il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore dolcissimo padre pio aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla padre pio cerco in te la forza quando sono afflitto a te ricordo per cercare rifugio e protezione in te il mio coraggio e la mia sicurezza il mio punto d'appoggio la mia gioia di vivere e di agire caro padre pio mandami il tuo angelo custode a confortarmi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame caro padre pio ti voglio pregare per momenti difficili che sto attraversando a volte sembra che tutto mi croglie addosso e che niente vada per il verso giusto proprio in questi momenti la mia fede vacilla fa che io non perda mai la fiducia in dio mio sostegno e mio padre onnipotente caro padre pio aiutami a far sì che si compia sempre la volontà di dio anche quando le cose non vanno come vorrei fa che io possa ripetere ogni giorno il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore dolcissimo padre pio aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla padre pio cerco in te la forza quando sono afflitto a te ricordo per cercare rifugio e protezione in te il mio coraggio e la mia sicurezza il mio punto d'appoggio la mia gioia di vivere e di agire caro padre pio mandami il tuo angelo custode a confortarmi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen caro padre pio ti voglio pregare per momenti difficili che sto attraversando a volte sembra che tutto mi croglie addosso e che niente vada per il verso giusto proprio in questi momenti la mia fede vacilla fa che io non perda mai la fiducia in dio mio sostegno e mio padre onnipotente caro padre pio aiutami a far sì che si compia sempre la volontà di dio anche quando le cose non vanno come vorrei fa che io possa ripetere ogni giorno il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore dolcissimo padre pio aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla padre pio cerco in te la forza quando sono afflitto a te ricordo per cercare rifugio e protezione in te il mio coraggio e la mia sicurezza il mio punto d'appoggio la mia gioia di vivere e di agire caro padre pio mandami il tuo angelo custode a confortarmi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame caro padre pio ti voglio pregare per momenti difficili che sto attraversando a volte sembra che tutto mi croglie addosso e che niente vada per il verso giusto proprio in questi momenti la mia fede vacilla fa che io non perda mai la fiducia in dio mio sostegno e mio padre onnipotente caro padre pio aiutami a far sì che si compia sempre la volontà di dio anche quando le cose non vanno come vorrei fa che io possa ripetere ogni giorno il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore dolcissimo padre pio aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla padre pio cerco in te la forza quando sono afflitto a te ricordo per cercare il rifugio e protezione in te il mio coraggio e la mia sicurezza il mio punto d'appoggio la mia gioia di vivere e di agire caro padre pio mandami il tuo angelo custode a confortarmi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame nel nome del padre e del figlio dello spirito santo ame caro padre pio ti voglio pregare per momenti difficili che sto attraversando a volte sembra che tutto mi crolli addosso e che niente vada per il verso giusto proprio in questi momenti la mia fede vacilla fa che io non perda mai la fiducia in dio mio sostegno e mio padre onnipotente caro padre pio aiutami a far sì che si compia sempre la volontà di dio anche quando le cose non vanno come vorrei fa che io possa ripetere ogni giorno il signore ha dato il signore ha tolto sia benedetto il nome del signore dolcissimo padre pio aiutami in questo periodo di difficoltà in cui gli sforzi appaiono vani e il mio piede vacilla padre pio cerco in te la forza quando sono afflitto a te ricordo per cercare rifugio e protezione in te il mio coraggio e la mia sicurezza il mio punto d'appoggio la mia gioia di vivere e di agire caro padre pio mandami il tuo angelo custode a confortarmi nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen